Buon primo maggio a tutti e benvenuti a questa iniziativa telematica di sinistra classe rivoluzione che è la sezione italiana della tendenza marxista internazionale. Oggi parleremo della Francia e delle importanti lotte sociali che sono scoppiate negli ultimi anni in quel paese che Marx aveva definito come il paese nel quale i lavoratori sono più abituati a portare avanti fino in fondo la lotta politica. In effetti si tratta del paese della rivoluzione francese del 1789, della comune di Parigi del 1871, dell'occupazione delle fabbriche del 36 e del maggio francese del 68 con un gigantesco sciopero generale a oltranza e una meravigliosa lotta degli studenti uniti ai lavoratori. Bisogna dire che anche in questi ultimi anni i giovani e i lavoratori francesi stanno riscoprendo questa tradizione militante che sta alle loro spalle. Credo che molti di noi ricorderanno le immagini del movimento dei gilet gialli con gli Champs-Élysées a Parigi non occupati dallo shopping ma da scontri tra polizia e manifestanti, oppure più recentemente molti avranno osservato con attenzione lo sviluppo di uno sciopero a oltranza che ha toccato tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020 il settore dei trasporti e della scuola e delle raffinerie in Francia contro l'ultima riforma delle pensioni voluta dal governo e ispirata da Macron. Ora, se la lotta dei giovani e dei lavoratori in Francia in questi ultimi anni è stata aspra ed è divenuta così anche una fonte di ispirazione in altri paesi d'Europa e del mondo, è bene cercare di trarne le lezioni essenziali anche qui in Italia, soprattutto in prospettiva delle lotte future a cui saremo chiamati quando, ed è già oggi, la classe dominante cercherà di farci pagare la crisi innescata dall'epidemia del coronavirus. Per quanto riguarda la Francia bisogna dire che la sprezza delle lotte di questi anni è stata dovuta certamente anche al declino di lungo periodo che ha conosciuto il capitalismo francese. La Francia, infatti, divenne una potenza imperialista di secondo rango già al termine della Seconda Guerra Mondiale. In seguito, negli anni successivi, finì di perdere il suo impero coloniale, ma bisogna anche aggiungere che il declino economico in termini relativi negli ultimi trent'anni è stato ancora più accelerato, soprattutto a beneficio di economie più potenti come quella tedesca, quella americana, quella cinese. Darò un solo dato che mi pare significativo e generale. Se nel 1990 la Francia deteneva una quota pari al 6,3% del totale dell'export mondiale, quella cifra nel 2016 si è più che dimezzata ed è caduta al 3,1%. Questo che cosa vuol dire? Che il capitalismo francese è in crisi e che la sua ricetta per uscire da questa crisi è farla pagare a chi lavora e a tutti gli sfruttati. E per fare questo i capitalisti francesi vogliono recuperare competitività e che si sta abbattendo diritti e conquiste sociali che sono il frutto di ormai più di un secolo di lotte. La reazione da parte della popolazione però in questi anni è stata crescente. Come è nato a questo proposito il movimento dei gile gialli nel novembre del 2018? E' stata la solita goccia che ha fatto traboccare il vaso, la partenza di tutto. Cioè una tassa in sé piccola sul carburante che sarebbe stata destinata a finanziare la transizione ecologica. E la reazione soprattutto tra quei lavoratori che usano molto la macchina per andare al lavoro ma anche partite IVA, artigiani che hanno dei consumi di benzina elevati e non comprimibili si sono messi alla testa della lotta e il gile giallo, quello che è obbligatorio per ogni automobilista da tenere in macchina, il gile giallo fosforescente, è diventato rapidamente il simbolo della lotta ed è stato indossato dalla maggior parte dei manifestanti nei loro presidi che di solito erano attorno alle rotonde. Ma questo movimento rapidamente ha chiesto molto di più che l'eliminazione della tassa sul carburante ha chiesto maggiore giustizia sociale attraverso la rivendicazione di un aumento delle pensioni minime un aumento del salario minimo. Questo movimento è diventato un'attrattiva per tutti quei settori che subiscono la vita cara, che non riescono ad arrivare a fine del mese, che non riescono a pagare l'università ai propri figli. Ha dato una speranza peraltro a un settore di solito passivo della società francese. I dipendenti delle piccole aziende, gli artigiani appunto, e si sono agglomerati attorno a queste figure sociali gran parte degli oppressi della società. E dunque questo movimento ha costituito rapidamente una minaccia per la stabilità del sistema politico. Rapidamente il movimento dei gile gialli peraltro ha anche abbracciato rivendicazioni di carattere più schiettamente politico, come la richiesta di dimissioni per Macron. Il presidente della Repubblica è eletto nel 2017. È interessante notare, rispetto alla composizione del movimento, che circa la metà degli intervistati nelle prime settimane di lotta hanno dichiarato che non avevano mai preso parte ad uno sciopero prima del novembre appunto del 2018. Questo ci fa comprendere quanto fossero profonde le radici sociali di questo movimento, che ha goduto di un sostegno molto ampio nella popolazione, fino all'80% e più della popolazione. All'apice di questa mobilitazione, con il governo sospeso quasi nel vuoto, purtroppo però sono accorsi in aiuto al governo i dirigenti dei tutti i principali sindacati francesi, compresa la CGT, la Confederazione Generale del Lavoro, che è il sindacato con più capacità di mobilitazione e che ha una storia, diciamo, simile alla CGL. In una dichiarazione del 6 dicembre, infatti, i sindacati si pronunciavano a favore della stabilità e contro ogni minaccia alla democrazia, rispondendo così all'appello del primo ministro e rimuovendo che se c'era una minaccia per la democrazia questa era ed è non certo proveniente dai gile gialli, che anzi chiedono una estensione della democrazia. Il governo ha a quel punto aumentato, ha cresciuto l'uso della repressione. Il sabato 8 dicembre 2018 sono stati dispiegati 90.000 poliziotti per reprimere i cortecci, ci sono state diverse migliaia di arresti, a Parigi la polizia ha potuto contare anche sull'aiuto di 14 mezzi blindati e di alcune compagnie di polizia a cavallo, ma la repressione da sola non bastava a fermare il movimento dei gile gialli e così Macron ha dovuto fare anche delle concessioni e quindi due giorni dopo, in un discorso alla nazione, il 10 dicembre 2018, Macron ha ritirato la tassa sul carburante, ha aumentato alcuni minimi sociali e pensionistici e ha mescolato ovviamente tutto questo con tante promesse e tanto fumo. Però il governo ha dovuto fare un passo indietro e questo non ha fatto immediatamente crollare la mobilitazione che è proseguita ancora per molte settimane, ma certo ha permesso al governo di respirare, anche grazie a una oggettiva complicità delle direzioni sindacali che non hanno fatto nulla per creare una unione, un legame nella lotta tra i gile gialli e i cosiddetti battaglioni pesanti del proletariato, cioè quei settori sindacalmente più organizzati come gli operai della grande industria o i dipendenti del settore pubblico. Il 12 dicembre così Le Figaro, il principale quotidiano conservatore in Francia, poteva iniziare a tirare un sospiro di sollievo però anche lanciare un avvertimento. nel suo editoriale scriveva questo La CGT ha incanalato per un secolo il malcontento popolare, la crisi dei gile gialli ha mostrato quanto fosse preziosa quella capacità e quanto sia un problema la crisi del sindacalismo. Credo che non ci sia bisogno di aggiungere molto. Quando la classe dominante deplora la difficoltà con la quale i capi dei sindacati non riescono più a controllare i movimenti sociali significa che alla testa di questi sindacati ci sono dirigenti assolutamente inadeguati. E la sinistra politica ci si potrebbe chiedere che cosa ha fatto. In Francia bisogna ricordare che nel 2017 la cosiddetta sinistra radicale incarnata da Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, ebbe più di 6 milioni di voti alle elezioni presidenziali pari a quasi il 20%. Quindi non è certo una presenza residuale. Però Mélenchon si è accodato al movimento e ne ha elogiato soprattutto gli aspetti più deboli, cioè l'estrema fluidità organizzativa e una certa persistente indeterminatezza politico-ideologica, perché se è vero che i gile gialli si sono dati nel corso delle settimane una piattaforma rivendicativa molto forte sui temi della giustizia sociale, non hanno però fatto un salto successivo abbracciando una alternativa rispetto al capitalismo in crisi. Dunque la massa che si è mobilitata è rimasta per lo più priva di punti di riferimento e questo spiega anche perché nelle manifestazioni c'è stato un utilizzo importante di simboli non del movimento operaio come la marsigliese, il lino nazionale francese o le bandiere tricoloni. Tutto questo è potuto crescere nel vuoto lasciato dalle organizzazioni della sinistra, vuoto in cui gran parte dei manifestanti ha usato quei simboli perché li percepiva come più immediatamente utilizzabili per cementare il proprio fronte di lotta. C'è però anche da aggiungere che quei simboli sono stati talora utilizzati per esempio alcune strofe molto violente della marsigliese per esprimere la propria collera contro la classe dominante di oggi. Infine penso sia necessario ricordare che non può certo essere la sinistra riformista o stalinista a dare delle elezioni su questo terreno. Fu il PCF, il Partito Comunista Francese, staliniano negli anni 30 a introdurre nei cortei operai la marsigliese e i simboli nazionali oppure a sostenere negli anni 80 campagne sul produrre francese, consumare francese. Ed è stato lo stesso Melanchon che nel 2017 nei suoi comizi distribuiva non bandiere rosse ma bandiere tricolori e faceva suonare l'inno nazionale e non l'internazionale. Dunque quei simboli che rappresentano il programma dell'emancipazione, della liberazione dalle catene del capitalismo saranno riscoperti senz'altro nel corso delle lotte future ma ancora la crisi della sinistra ha lasciato un vuoto che non è stato colmato. È stata una mobilitazione di destra come hanno sostenuto molti quotidiani francesi e anche italiani? Parebbe proprio di no, nel senso che quotidiani come Repubblica hanno presentato in modo interessato uno schema di conflitto tra un governo di liberali illuminati contro cosiddetti bifolchi nazionalisti, euroscettici, antimoderni eccetera. In realtà i gile gialli hanno rifiutato di pagare il conto di una modernizzazione fatta interamente nell'interesse dei potenti ed è stato proprio in quei mesi che l'epiteto di presidente dei ricchi invece è stato attribuito a livello di massa a Macron il quale rifiutava per esempio di accettare la rivendicazione dei gile gialli di rimettere la tassa sulle grandi fortune che lui stesso aveva abolito. Quindi temi di destra non ne hanno sollevati i gile gialli e il dibattito nella società è andato in tutt'altra direzione. quel movimento affievolito ma non scomparso, non sconfitto, era stato, nei gile gialli intendo, era stato al tempo stesso un indicatore di un clima sociale diffuso, di collera, di rabbia montante e così 12 mesi dopo lo scoppio dei gile gialli, giorno più giorno meno, il governo, lo stesso governo Philippe, ha dovuto affrontare un altro movimento sociale di massa. Questa volta il carattere di classe del movimento era più definito e il metodo di lotta più tradizionale, nel senso che questo movimento si è espresso attraverso lo sciopero e taluni settore attraverso lo sciopero a oltranza. Il tema che ha suscitato questa risposta nel dicembre 2019 è stata la riforma delle pensioni che andava a toccare il sistema retributivo per passare al contributivo e così aggrediva le pensioni di gran parte dei lavoratori in maniera sostanziosa, soprattutto dei lavoratori del pubblico perché i lavoratori del privato avevano già subito una controriforma delle pensioni di questo genere. Ora, che cosa hanno fatto anche in questo caso i dirigenti sindacali? Per ben 18 mesi e 23 incontri col governo hanno svolto il ruolo che gli è stato assegnato dalle istituzioni nella commedia della cosiddetta democrazia sociale. Invece di boicottare questi finti negoziati, i dirigenti sindacali si sono prestati a questo gioco e non hanno preparato i lavoratori alla lotta. Anche in questo caso la riforma è stata presentata all'opinione pubblica come inderogabile e necessaria. Aggiungo che questa riforma consente anche ai padroni di aprire il mercato delle pensioni integrative private. Malgrado tutto ciò ci sono stati alcuni settori di avanguardia particolarmente toccati dalla riforma, ferrovieri, dipendenti dei trasporti pubblici parigini, la RATP, lavoratori delle raffinerie e lavoratori della scuola che si sono messi alla testa della lotta. Particolarmente nei trasporti si è determinata una dinamica di sciopero a oltranza che è durato per circa 40 giorni. Perché un movimento così profondo che ha praticamente bloccato per più di un mese il cuore del paese, l'Ile de France, dove abitano 18 milioni circa di persone e c'è il cuore pulsante finanziario e politico della nazione. Perché un movimento di sciopero così non è riuscito a sconfiggere il governo? No. Anche in questo caso l'aiuto principale alla stabilità del sistema politico è venuto dall'indecisione e direi anche dalla linea concertativa e interclassista dei vertici sindacali. Perché è mancato un piano di battaglia generale e così alcuni settori, i settori alla punta della lotta si sono trovati da soli. Il governo aveva immaginato che ci sarebbe stata una reazione, forse non così profonda, e la sua strategia però il governo ce l'aveva. Era quella di sperare che lo sciopero si logorasse senza appunto generalizzarsi. In questo compito però, quello dell'estensione dello sciopero a un numero il più elevato possibile di settori, sono mancati i propri dirigenti sindacali, che non hanno elaborato nessun piano di battaglia generale e hanno mantenuto un programma rivendicativo molto di basso profilo, solo difensivo. La teorizzazione era che si doveva fare una battaglia in due fasi. Prima cancellare questa riforma, poi negoziarne una progressista con l'attuale governo in carica. Non si capisce come sarebbe potuta scaturire una riforma progressista dall'attuale governo. Questa linea concertativa ha favorito, dopo un mese e mezzo di battaglia molto intensa, il recupero da parte del governo. Per giustificare la propria mancanza di azione, il segretario generale della CGT ha addirittura cercato di teorizzare questa sua politica di capitolazione e ha dichiarato quanto segue. Lo sciopero generale non significa nulla, è un mito. Persino nel 68 non ci fu un appello allo sciopero generale. Ora, con una dichiarazione del genere fatta in pieno movimento, Martinez, il segretario della CGT, chiarì ulteriormente al governo, al padronato francese, che la CGT non aveva alcuna intenzione di organizzare uno sciopero generale, di prepararlo. e con questo non ha fatto altro che dare un'ulteriore determinazione ai nostri avversari per tenere duro e andare fino in fondo. Queste due esperienze che abbiamo sinteticamente trattato oggi ci devono indurre ad alcune riflessioni generali. La prima. In Francia la classe dominante, le istituzioni, sono sedute su un vulcano. Abbiamo visto soltanto le prime esplosioni. Numero due. Se finora i governi in carica sono rimasti in piedi, nonostante siano molto indeboliti, ciò è dovuto interamente alla linea fiacca e di collaborazione di classe dei dirigenti sindacali che non sono all'altezza della situazione e tantomeno della nuova epoca. Terzo. La sinistra politica, riformista o ex-stalinista è completamente in coda al processo e non riesce a inserirsi nella sua dinamica viva. Quarta e ultima considerazione. A partire dal movimento dei gile gialli sono entrati in campo anche settori sociali sfruttati tradizionalmente inerti e passivi. Questo indica che sono all'ordine del giorno, nei prossimi anni, movimenti di una portata rivoluzionaria anche in quel paese. Ora la situazione nel mese di marzo, anche in Francia, è stata polarizzata dalla crisi epidemica. Lo stesso cammino parlamentare della riforma delle pensioni è stato sospeso durante questo lockdown. Non ho dubbi che verrà prontamente ripreso da Macron appena possibile. Però in Francia come in Italia la crisi innescata dal coronavirus ha mostrato che questo governo è interamente associato agli interessi padronali. Sono stati promessi già centinaia di miliardi di euro a fondo perduto per le imprese e siamo sicuri che andranno innanzitutto alle grandi imprese e principalmente ai 40 titoli più importanti quotati alla Borsa di Parigi e alle banche per tenere su il loro tasso di profitto. Attualmente il governo in Francia sta cercando di accelerare quella che in Italia chiamiamo la fase 2 attraverso misure di allentamento del confinamento, misure irresponsabili, misure anche contrarie alle indicazioni dei comitati scientifici e sanitarie. Per esempio i lavoratori della scuola sono sul piede di guerra e non solo loro in realtà perché il governo vuole tirare dritto rispetto ad una irresponsabile riapertura delle scuole a partire dall'11 gennaio. Bisogna ricordare che in Francia ci sono tuttora tassi di nuovi contagi giornalieri attorno alle 3.500 persone, circa 300-350 morti al giorno, quindi l'epidemia è ancora molto forte e i comitati tecnici scientifici sono convinti del rischio forte di una ricaduta con una riapertura troppo veloce e soprattutto con la riapertura delle scuole. Peraltro anche la Francia ha subito, anche in Francia ci sono stati forti tagli alla sanità e questa crisi è stata affrontata con una penuria di mezzi, di personale e anche più banalmente con una scarsità di mascherine, guanti, geligianizzanti. Dunque la classe dominante si è dimostrata assolutamente inadeguata e incompetente anche nel riuscire a gestire questa crisi che nella prima fase è stata sottovalutata direi ancora più che in Italia se pensiamo che è stato lo stesso presidente della Repubblica, Macron, a spingere perché il 15 marzo si tenesse il primo turno delle elezioni amministrative per poi passare bruscamente il 16 marzo al lockdown. In Francia come in Italia, come negli Stati Uniti, come in Spagna e altrove se sono rimaste chiuse delle imprese, dei settori non essenziali dell'economia questo è stato solamente per l'azione dei lavoratori. Dopodiché in questo momento, come in Italia, le pressioni del padronato per riaprire a tutti i costi anche a costo di mettere in pericolo la salute di centinaia di migliaia di persone questo è il tema del giorno. Io credo che sarà molto difficile per i potenti, per i capitalisti oggi in Francia far pagare i costi di questa crisi sulla maggioranza della società. Credo che la prospettiva sia assolutamente per i prossimi mesi e anni quella di una ripresa e di una intensificazione del conflitto di classe. Spetta alle avanguardie, spetta ai marxisti, in questo senso, partecipare a questo conflitto e battersi per offrire alla classe lavoratrice e alla gioventù quel programma rivoluzionario, quella prospettiva di trasformazione è sola in grado di offrire un futuro per la nostra umanità. Viva il primo maggio, viva il comunismo, viva la tendenza marxista internazionale. Avanti popolo! Grazie a tutti!